Perché i film bro? Alcuni film proprio non li possono capire, non li capiscono, parliamone. Ciao a tutti, sono Marta Suvi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di come, secondo me, molto spesso i film bro non capiscono i film per una motivazione particolare, ovvero il tipo di approccio. Il tipo di approccio è sbagliato. Quindi questa è una guida ai film bro per capire magari meglio il cinema, ma soprattutto chi sono i film bro? I film bro praticamente è un termine che viene utilizzato in maniera un po' così scherzosa per parlare di tutte quelle persone che si fingono sparti di cinema, ma in realtà ne sanno poca e niente, si atteggiano e molto spesso sono anche un po', diciamo, un po' scontrosini, ecco, per quanto riguarda questa cosa. E in genere si chiamano bro, eccetera, eccetera, però abbiamo capito che Shagira fa parte dei film bro, quindi noi siamo inclusivi. Anche le basic bro sono parte dei film bro. Ma iniziamo a parlare di questa cosa. Secondo me questo è un discorso che possiamo fare che è molto, molto interessante e, insomma, spero che possa essere così un po' d'aiuto per riflettere insieme sull'approccio alle cose. So che sarà sicuramente pieno di gente qua sotto che nemmeno ascolterà le mie parole. Cioè, tipo, l'altro giorno ho ricevuto un commento sotto il video di Shagira di una persona che mi fa che mi scrive Ciao Barbara! Ma voi femministe non parlate dell'Iran? Quindi capisco che, insomma, Shagira non si mette lì a sentire nemmeno oltre i primi tre secondi quello che dico, figuriamoci sotto il video, figuriamoci sotto il video, quindi... Oggi, però, vi voglio parlare proprio di questa questione sull'approccio, perché secondo me è fondamentale. Molto spesso i film bro ce l'hanno con determinati film perché, diciamo, non capiscono come si analizzano determinati film. So che è molto criptico, anche un po' pomposo questa cosa, ma chi se ne frega? Insomma, se sa, possono dire quelli che non hanno mai studiato una pagina di cinema, posso tirarmela pure io. Oggi parleremo di questo, spero che sia una riflessione interessante. Prima di farlo vi ricordo che io parlo di cinema su Instagram e TikTok, principalmente TikTok, vense... e lì vi suggerisco un sacco di film e cose così, quindi Barbixana, se mi aiuta una cifra, se mi seguite, grazie, 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 perché le aziende guardano solamente i numeri, quindi se mi seguite, grazie, mi aiutate un sacco. Ma, insomma, inoltre, la maglietta di oggi è di Pampling, l'ho tutta modificata così, però è di Pampling. Se vi faccio una maglietta di Pampling, con il mio codice, il codice Sghicio, potrete prendere tutte le magliette che volete, a Tamacina, Massa di TV, eccetera, eccetera, ma ci avete un paio di calzini in omaggio. E la cosa più fondamentale, fondamentale, che è proprio quella più fondamentale di tutti, se voi utilizzate il codice Sghicio, ci guadagno io, perché una percentuale mi arriva a me, quindi grazie, perché è un codice affiliato. Con l'articodici ci guadagnano l'articodici, quindi però il codice Sghicio io! Comprate una scatoletta a Carrie, se lo utilizzate, che avete regalato una scatoletta, quindi grazie mille davvero. Ma, insomma, dobbiamo parlare dei film raw e del perché non capiscono determinati film. Allora, ovviamente questo approccio è un po' provocatorio, perché semplicemente è un po' così, però ovviamente i contenuti questi sono, cioè, un po' scherza, onestamente trovo anche un po' limitante il fatto che ogni volta che, cioè, uno può scherzare, tra mille virgolette, e dire, oh, le cose per donne fanno cagare, roba così, è tutto considerato lecito, anche su temi, che ne so, di, boh, diritti umani. Poi se, non lo so, io scherzo magari un attimo sui film raw, c'è sempre quello indignato qui sotto, che mi scrive, eh, però, è un po' esagerato, eccetera, eccetera, ma stiamo a scherzare tanto c'è, mamma mia, ma come va a prendere facilmente? Quindi, insomma, con il parlare di questa questione, abbiamo chiedito chi sono i film raw e parliamo di tutto ciò. Allora, ho trovato, diciamo, un comune denominatore per quanto riguarda la difficoltà nel capire film come Barbie o altri film che magari avvano a che fare con un target tipicamente femminile. Il problema principale è il non percepire il target femminile come valido. Vi dico una cosa. Allora, sia da un punto di vista, magari, nel, tipo, le cose che piacciono alle donne molto spesso vengono sminuite, tipo, avevo letto un commento su Twitter che parlava dei tiktoker e parlava, li paragonava a i vecchi, come si dice, i vecchi youtuber che facevano gli incontri al centro commerciale, eccetera, eccetera, e diceva, eh, vabbè, ma i gamer che seguivano i ragazzini erano un'altra cosa, non come quelli che seguivano le ragazzine, cioè, come se non lo dava, ci fosse una enorme differenza per quanto riguarda contenuti per ragazzi molto generici. Erano un po' la stessa roba, insomma, e nessuno di loro, onestamente, credo che fosse proprio monnezza, vi dico la verità. C'era ognuno il suo contenuto, ognuno che parlava di sé o quello che gli piaceva. Contenuti per ragazzini giusti per la loro età, niente di più. Cioè, che se ascoltà un 14enne, cioè, pretendiamo davvero che se ascolti, non lo so, il video su Kant, cioè, io a 15 anni mi sono letta l'Antichristo di Nice, però io ero un problema, perché a parte in ciocco avevo capito molto, quindi avevo fatto tutte le mie lucubrazioni. Però, diciamo, la norma è un'altra cosa ed è giusto che sia così, perché non vuol dire che se tu fai qualcosa per la tua età, sei stupido. Cioè, anche questa cosa dell'adultizzazione forzata dei ragazzini è davvero una roba malata, onestamente. Tu stai spingendo queste ragazze a non vivere i loro momenti di adolescenza con tutte le cose anche stupidine per quell'età, ma giuste per quell'età. Magari per noi sono stupidine, però per loro sono importanti, sono giuste. Li stai spingendo a fare cose per adulti e qualsiasi cosa sia vestirsi, atteggiarsi, parlare, no, è sbagliato, non devi forzarli, quindi questo è un discorso più ampio. Molto spesso tutte le cose percepite per donne o dal taglio femminile, qualsiasi cosa voglia dire, vengono percepite come inferiori. La cosa più brutta che può succedere nel mondo del cinema è quando, che ne so, al posto di un personaggio maschile lo fanno diventare femminile. Oh mio Dio, sembra quasi la cosa peggiore al mondo che può succedere. Oh mio Dio, tutti tranne una donna. Un po' come è successo per Silver Surfer che hanno preso nel cast una versione che a quanto pare esiste nei fumetti dove una donna e quindi hanno preso un'attrice. a me sembra una scelta onestamente un po' del cavolo proprio che le polemiche offuscheranno qualsiasi possibile qualità del film però onestamente anche qua le polemiche scelta del cavolo critiche del cavolo. Ma a parte questo il problema generale che io ho notato è che molto spesso quello che vogliono e che approvano i film bro per quanto riguarda personaggi femminili o film femminili è qualcosa che non è femminile. Cioè la cosa che preferiscono è la cancellazione di qualsiasi cosa che ricorda la femminilità. Ogni volta che si parla per esempio di Barbie eccetera eccetera Barbie è proprio secondo me il picco perché è stato l'esempio della femminilità intesa in senso stereotipato ovvero rosa cosa tipicamente femminile non c'è nessun modo di venire incontro e dire sì vabbè ti metto una furiosa di Mad Max non c'è nulla di tutto ciò non c'è né l'ammiccamento sensuale o sensuale alla Lara Croft né c'è qualcosa che possa essere un po' più tipicamente maschile come stereotipo dall'altra parte non c'è azione non c'è questo non c'è nulla di tutto ciò c'è semplicemente qualcosa che piace diciamo alla femminilità secondo lo stereotipo ovviamente io qui vi parlo di grandi numeri ecco quindi stiamo parlando per stereotipi ecco anch'io vi sto parlando che esistono esisteranno per motivazioni anche culturali di imposizione strasciche eccetera eccetera però esistono l'idea che quindi qualcosa di simile esista diventa un problema perché tu consideri il rosa cioè pensate a quante persone sono indignate per Barbie per parlare del rosa oh mio dio tutto rosa troppo rosa perché quello è proprio il simbolo odierno per quanto riguarda la femminilità il rosa la Barbie tutto e dall'altra parte non c'era niente che parlava il codice maschile in una società in un mondo dove quello che è il codice maschile viene considerato bello forte e il resto è una monnezza il resto viene considerato stupido qualcosa che quindi non include quei codici maschili ma solamente quelli femminili è stupido e questo è un problema è un problema perché tu quindi stai proiettando degli stereotipi gerarchizzanti verso qualcosa che in realtà è tutto lecito di esistere e non intendo Barbie Barbie chi se ne frega del film lascia il tempo che trova è semplicemente un esempio ma la maggior parte delle critiche che voi vedete è Sofia Coppola non piace perché non piace Sofia Coppola a molti film bro perché i film di Sofia Coppola sono molto diversi tra loro Bling Ring è diverso dalle vergini forse Lost in Translation forse è quello che può piacere maggiormente anche ai film bro perché parla di una differenza d'età l'uomo e della ragazza più giovane eccetera eccetera ma tutto il resto non sanno proprio che fa con questa roba perché è una visione femminile è una visione anche di quello che molte donne si possono rivedere nella femminilità forse non riescono a identificarsi ma soprattutto lo rifiutano e molto spesso quello che richiedono questi film bro a questi tipi di prodotti cinematografici è la cancellazione di quella femminilità cioè molti chiedevano quando dicevano no ma io apprezzo i film di che ne so avevo fatto questa critica per Soulborn molti hanno detto no ma a me piacciono i film con protagoniste femminili tu gli dici sì quali ti piacciono e ti dicono Furiosa di Mad Max Fury Road Alien con Ripley Uma Thurman in Kill Bill sono tutti personaggi che giustamente esistono che sono effettivamente forti ma hanno una cosa in comune tutte le cose che vengono in genere ricondotte sia esteticamente che a livello stereotipato alla femminilità intesa come concetto stereotipato identificabile al femminile sono cancellati sono personaggi quasi mascolinizzati questi sotto alcuni aspetti non in tutti Ripley per esempio parla tanto di maternità esempio sotto quel tipo la femminilità eccetera c'è tutta questa roba anche Furiosa parla proprio tutto dell'emancipazione eccetera eccetera però il problema è quello l'identificazione di personaggi ritenuti nobili sono solamente quei personaggi che abbandonano tutte le caratteristiche avvicinate al femminile le rinnegano per abbracciare caratteristiche che molto spesso vengono avvicinate al maschile e questo è un problema questo è un problema non del film ma del modo di approcciare al mondo approcciare alla società se l'unico modo in cui si percepiscono le donne è di farle diventare una sorta di imitazione maschile non è libertà se io devo rinnegare tutto quello che mi è stato insegnato per una vita non posso scegliere quindi di prendere qualcosa o anche abbracciare rimanere quello ma farlo consapevolmente non perché mi hanno detto che quello devo fare in quanto femminuccia ma perché effettivamente esteticamente a me piace il rosa se io non posso avere quell'opzione di scelta io non sono libera perché se tu mi forzi in una direzione io non sono libera è un po' come gli uomini gli uomini se non possono decidere cosa essere all'interno della società non sono liberi a livello di estetica di riflessioni di sentimenti di punto di vista idem per quanto riguarda le donne se l'unico modo per essere percepito un personaggio femminile forte è rinnegare una parte che quindi quel tipo di personalità di estetica diventa off limits perché simbolo di debolezza di stupidità a lei non sono personaggi femminili emancipati non sono personaggi femminili liberi l'emancipazione di quei tipi di personaggi femminili come Ripley Furiosa Bellatrix non era tanto che avessero quelle caratteristiche ma che quelle caratteristiche fossero rare per i personaggi femminili e che quindi una nuova opzione fosse emancipatoria all'interno del cinema perché erano alcuni dei pochi personaggi femminili con quelle caratteristiche ma non è che quelle caratteristiche diventano simbolo di forza o di emancipazione all'interno del cinema dovevano esserci tutti i tipi di rappresentazioni e il fatto di evitare un tipo di rappresentazione che possa ricadere troppo nella femminilità senza una storia romantica senza un film romantico è una cosa che spiazza perché quello era concesso solamente nei film prettamente romantici Barbie non era così non era un film prettamente romantico Sofia Coppola non ti fa la storia d'amore romantichella e basta ma ti mette il punto di vista femminile ti fa lo stile coquette ti mette i fiocchetti ti mette i pizzi il rosa il celeste tutti i colori pastello ma te li mette all'interno di ragazze che sognano e ambiscono solamente una cosa finì la loro vita e questo è spiazzante perché prendi lo stereotipo prendi lo stereotipo leggerino gli dici non è così leggerino non è così stereotipato è nichilista idem per Barbie avete mai pensato di morire? idem è la stessa identica cosa e questo crea un cortocircuito all'interno dell'identificazione perché non l'identificazione ma l'analisi di quei codici da parte di alcuni film che quindi dicono ma questa cosa era stereotipata questa cosa era leggera era sciocchina queste due cose non hanno niente a che fare per effettivamente dare dignità a quel personaggio nella loro mente deve esserci la fase del rifiuto delle cose tipicamente femminili per abbracciare quelle percepite a livello di stereotipo come tipicamente maschili ma non è così quello non è femminismo il femminismo è libertà di scelta e dirti quello rosa pizzi merletti è uno stereotipo non è che solamente quello è la tua femminilità la tua femminilità può essere tutto può essere Barbie può essere pizzi merletti piccole donne così come può essere Furiosa di Mad Max cosa vuoi prendere all'interno del pasto immaginate un buffet tu puoi prendere un po' di Rosa puoi prendere un po' di Furiosa puoi prendere un po' di quest'altro e puoi creare quello che è il tuo buffet che sia la rappresentazione che sia la costruzione di un nuovo personaggio femminile che sia la tua vita la tua estetica la tua visione artistica tutto questo è l'atto che rende emancipatorio un personaggio femminista non è semplicemente il deve avere le caratteristiche alla Furiosa deve essere quel tipo di forza ma è la scelta il sapere che tu puoi scegliere e che consciamente scegli Barbie il rosa eccetera eccetera e non perché credi che sia l'unica opzione in quanto donna che quella sia l'unica versione per essere donna ma semplicemente perché ti piace e tra il buffet scegli anche quello o in parte quello questa è proprio la differenza secondo me ogni volta che ci sono questi film molto spesso con un tono camp tutta questa parte dei film bro non li capisce e li relega a che cagata sono stupidi non loro intendo loro che dicono a proposito dei film e questo è il problema questo è il problema non saper decodificare i codici sociali non sapere come analizzare film che magari non sono per te cioè i film bro molto spesso faticano a analizzare film con un taglio più queer con un target più per le donne quando si tratta di uscire dal target mainstream il cinema in genere si rivolge come target mainstream a un uomo giovane bianco etero occidentale appena si esce da quello non lo sanno analizzare quindi se c'è un target femminile non lo sanno analizzare se c'è un film queer non sanno analizzarlo se c'è poi un film che va fuori dall'occidente non lo sanno analizzare perché lì ci sono altre dinamiche altre dinamiche ancora i film indiani per esempio i film bro occidentali faticano un pochetto a capelli perché certe cose che sono percepite come normali nella rappresentazione di personaggi maschili indiani nei film alla bollywood e roba così a volte hanno caratteristiche che noi in uccidente classificheremo come femminilizzate e quindi vanno nel panico non sanno che fa sono disorientate questo è un discorso secondo me che ha a che fare proprio con i codici sociali quando vi parlo per analizzare un film per capirlo bisogna sapere tante cose bisogna studiare il cinema ma bisogna anche sapere un po' come gira il mondo riguarda anche questo se tu non riesci a decodificare queste cose a livello personale tu non le sai decodificare nemmeno quando le vedi al cinema e quindi se c'è qualcosa che ne so di cinema queer perché non ne parlano cioè raramente vedete giornali online di canali che ne parlano di film queer perché? perché ovviamente non sanno come digerirle a meno che non diventino qualcosa di molto mainstream o di molto romantico drammatico non sanno bene le commedie per esempio con un po' più diciamo che giocano tra i bordi molto spesso non ne parlano ma non riuscirebbero nemmeno a capirle secondo me ma non capire perché non capiscono cosa succede non riescono a decodificarle perché non capiscono i codici e non capiscono quindi quanto quei codici sono giocati all'interno di quel contesto quanto quello stereotipo viene riappropriato e magari rielaborato quanto quello stereotipo è imposto perché ci sono stereotipi anche per quanto riguarda la categoria arcobaleno dove alcune volte quegli stereotipi sono imposti e limitano quel personaggio altre volte capite che quello stereotipo è preso e giocato all'interno del film volontariamente quella caratterizzazione del personaggio è volontariamente su quello stereotipo perché è parte della sua personalità sto pensando a che ne so oddio Lafayette mi sembra si chiamasse il personaggio afroamericano di True Blood è un personaggio queer molto sopra le righe che in un altro contesto sarebbe stato io almeno vi dico da quello che mi ricordo non lo vedo da anni quindi nel caso sto dicendo qualche imprecisione correggetemi all'epoca almeno da quello che mi ricordo io era un personaggio che in altri contesti poteva avere quelle caratteristiche in un senso caratterizzante stereotipato in negativo ma qui era stereotipato emancipatorio perché abbracciava consapevolmente determinate caratteristiche stereotipate lo stereotipo esiste perché è molto diffuso ma se alcune persone credono di dover essere così perché lo stereotipo che alle donne piace in rosa eccetera eccetera ci sarà anche tutta una fetta dove effettivamente alle persone piacciono queste cose e poi il discorso lunghissimo potrebbe essere ti piace perché la società ti ha detto che ti deve piacere o perché effettivamente ti piace discorso ampio gigantesco enorme ma molto spesso è guarda ad alcuni piacerà perché credono di dover solo far piacere ad altri sarà parte della loro personalità e l'esclusione di questa opzione non può essere nulla di emancipatorio se tu mi dici che io non posso essere tutto ma posso essere solamente una parte tu non mi stai a dare la libertà mi stai a dare semplicemente un'altra imposizione diversa dalla precedente forse leggermente più ampia ma diversa dalla precedente e qui c'è proprio un contesto l'idea di base che quello che ricorda la femminilità sia inferiore sia subito e sia debole è proprio la base del patriarcato proprio la base del oh mio dio fai le cose da femmina e quindi viene considerato una cosa pericolosissima da non far mai è proprio quella alla base e non lo so secondo me era un po' necessario fare questo discorso e spero che possa essere utile anche per tutti perché io faccio questi discorsi faccio queste riflessioni perché io per prima me le so poste queste critiche e analisi però insomma secondo me è una cosa utile un po' per tutti vi dico la verità voi che cosa ne pensate c'avate mai riflettuto su questa cosa vi vengono in mente degli esempi magari non fate nomi che ne so troppo contro persone che conosciamo che è un po' brutto ecco cose così non lo so effettivamente ritrovate queste parole che vanno a descrivere contesti che conoscete oppure no potrebelo sapere con un commento qui sotto se sei rimasti fin qui lasciate qui sotto un fiocchetto rosa un fiocchetto stile coquette grazie ancora ciao